Buongiorno amici, eccoci qui, facciamo un po' di cucina, semplice semplice, mettiamo il fuoco alto, olio d'oliva abbondante, due cucchiai almeno pieni, mettiamo una testa d'aglio, mettiamo una sciacquattina, così, qui ho 6 cipolline, glielo abbiamo, e le cadiamo a mano, ci facciamo pezzettini, buona domenica a tutti, siamo qui a Londra, come al garden, passiamo un'oretta insieme, un'oretta un po' meno, di buon mattino, qui sono le sette, facciamo un bel risotto e delle lenticchie, io ho già cotto e pulito le cozze, ho bisogno percorso, stiamo facendo riscaldare la pentola, facciamo scolorare bene l'aglio, facciamo un po' la fiamma però, mettiamo il peperoncino, anche qui una lavatina, mettiamo un po' delle cipolle, finiamo il posto pulito, Alla prossima. 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 e stiamo aggiungendo l'acqua. Ricopriamo il riso, mescoliamo, fiamma alta per 10 minuti ragazzi, ecco qui, adesso la faccio, un po' tolgo il pepe mucino e l'aglio, ci metto del dado vegetale, ecco qui, un cubetto basta, non è che qua, una gelatina, adesso fra un attimo aggiungiamo le nostre lenticchie qua, diamo un'altra gelatina alla nostra pasta, buongiorno Gettano, benvenuto, stiamo facendo un bel risotto di cozze, riso rustico, nero e misto, ecco qua, dato la rifrescata alla pasta per la pizza e per il pane, è riuscita molto buona, qui la sto rifacendo ai bambini, ecco qua, andiamo a lavorare per un bel po', piano piano, altrimenti uno perde anche la pazienza, un po' apsi. A presto. Ok, occhio al riso che non si attacchi sul fondo, ecco qua, la malta, facciamo bollire la salsa per le venticchie. Grazie. Grazie. Ecco qui ragazzi, adesso risciacquando e poi le mettiamo lì. Le ho messe in acqua fredda per circa due ore. Ok. Mezzo chilo di venticchie. Qui abbiamo le cozze che ho già pulito, messe da parte. Allora, come vi ho detto prima il riso è a fiamma alta. Ecco, adesso aggiungiamo un po', non ci deve attaccare logicamente. Aggiungiamo un po' d'acqua. Calda. Ok, mescoliamo bene. Per un paio di minuti passiamo alla fiamma. Buongiorno Sergio. Cucina semplice. Il risotto alle cozze, risotto nero rustico, molto buono. Mischiato con un altro risotto chiaro, sempre rustico. Ecco qui, le messe attacchi nede al fondo. Mescoliamo di nuovo la nostra pasta per il pane o per la pizza. L'abbiamo rinfrescata con mezzo bicchiere d'acqua e una ciotola di farina. Siamo un'ora indietro qui in Gaetano. Ecco, dobbiamo lavorare per un bel po' di tempo. Abbiamo raffiato il fondo, incorporiamo tutta la farina. Ecco qua. Ogni tanto mi avvicino e mesco. Ecco qua. Ecco qua. Ogni tanto mi avvicino e mesco. Ecco qua. 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 Prepariamo un bel caffè. Prepariamo un bel caffè. Un bel caffè. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Un bel caffè. Ecco qua. 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 Come vediamo qua. So 네. Ecco qua. Edile Adizio aloe e qualche lodo d'edان. Ogni tess Vergine. E quindi, gli u�ini di lago. Ecco qua. Ecco qua. Ok, just keep an eye on your rice Or you mess up everything, ok Again You should use a metal A metal, no Not like mine There we go, the metal screen, grab it Make sure it doesn't stick to the base of the pot There we go, now again I need more water Always I add hot water I start to remove my chilis We don't want much of it, ok Remove my garlic Full clove of garlic, yeah Ok, I keep stirring it Now it's time to turn the flame down to almost a minimum More water I put a vegetable stock cube in it Very sweet Very, very sweet But we add the muscles which are already cooked Only towards here, ok Now back to my dough There we go Keep working it Look, this way It's becoming a wonderful thing Ok, I'm going to clear up the place now Just for a short while, put my dough on a plate Just for a short while, put my dough on a plate Here Supposed to make a coffee There we go Let's keep the sleeves clean The waste is a very important thing Then we fold it We're made a great way And we're going to make sure to soak up the piece This is themadı油 We're going to make sure to soak up the dessert There we go The coffee Buon appetito! 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 il sale, assaggiamo il sudetto, possiamo aggiungere il sale, anche le lenticchie, però in genere lo metto alla fine, ok? Torniamo alla nostra pasta per il pane, andiamo bene e continuiamo a lavorare la nostra pasta, ok? La si deve lavorare per bene, la stigliamo e la pieghiamo, ok? La si stiga e la si piegiamo, ok? Se la vedete un po' troppo umida, aggiungiamo una puntina di farina, così, e continuate a lavorare, ok? Eccoci qua, raga, controlliamo i nostri piatti, allora, io ho appena finito di vedere il tellis, si ha battuto l'americano, 3 set a 1, ha dominato, non ci è stata fatta, è molto brava, mescoliamo anche le nostre picchie, circa 45 minuti di cottura, ragazzi, le fate un po', mettete nell'acqua fredda, sta andando una meraviglia, aggiungete un po' di basilico, un po' di spezzio, ecco qua, si muove va, ci vediamo il caffè, poi dobbiamo preparare il prezzemolo, ragazzi, quindi io preparo il mio tagliere di legno qua, mi sto sempre a mescolare, altrimenti, cottura lenta, ok, qui abbiamo le cozze, che fra un pochino ne aggiungeremo, però le sposto, le metto, non le metto riprendere, ok, caffè, ragazzi, è bello pronto, e qui, e si va, il caffè di buon mattino, ecco qui, senza zucchero, senza latte, è una bontà, sto caldo, ok, allora, insieme il prezzemolo, eccolo qui, prendiamo, non troppo, un pochino, ecco qua, diamo una bella lavata, e diamo una bella trittatina, proprio fine, 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 ecco, fra un pochino iniziamo ad assaggiare il riso, ancora, non è pronto, però, dobbiamo massaggiare, ok, cucchiaino, cucchiaio, quello che volete, vediamo un po' quanto è duro, ancora, ancora, ancora da cuocere, aggiungiamo un po' d'acqua, sempre piano piano, calda, e mescoliamo, buon caffè, adesso, io la pasta la devo, le do un'altra giratina, ma poi la copro, adesso,улярamente, facciamo anche un tratto, allora ragazzi se ci metto una ciocca di burro sullo riso ecco qua, iniziamo a tagliare il prezzemolo proprio fine 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 ok ragazzi, un po' di parsley, aggiungiamo il prezzemolo aggiungiamo il prezzemolo get a big knife, and do what I'm doing get a big knife, and do what I'm doing let's finish our lovely coffee espresso be careful, that doesn't stick to the base of the pack, keep stirring it metal spoon is better ok, stir as well the lentils, my chili likes them dry without any sauce, so I'm not going to add any more water, just plain, you know, it's nothing special in it, just a couple of onions chopped finely, plenty extra virgin olive oil, salt to be added only at the end, ok? they have to cook for 45 minutes to one hour, depends how, you know, the flame, there we go ok, at this point I'm going to add some stock, with some butter ok, as you can see, I cover my dough, yeah, cover it, and let it rest ok, we're just in there we're going to add a chunk of butter now ok, I don't know why I say a chunk, but here we go ok, that much, ok, not much ok, I think my rice is done ok, let's go ok, let's go to taste the again remember, chop finally your parsley buongiorno michele carissimo saluto nella londra facendo il risotto nero alle cozze una divina bontà ci sono circa 350 grammi di riso 300-350 c'è un dado vegetale acqua in abbondanza olio d'oliva un paio di cipolline aglio peperoncino e adesso sul finale aggiungiamo le cozze cozze bellissime che ho preparato precedentemente adesso spegniamo il fuoco e aggiungiamo le cozze mescoliamo e spegniamo la fiamma il riso va a prendere il sapore del mare un abbraccio mi chiede grandi abbraccio quando vengo giù a Cagliari vengo a salutare adesso aggiungiamo il nostro prezzemolo un bel po' di prezzemolo veramente buono ok ragazzi così eccoci qua ragazzi mescoliamo bene il nostro risotto alle cozze attento guarda perché aspettate adesso a crudo ci metto un altro pochino d'olio d'oliva ma adesso una puntina eh così una puntina ecco qua ed è pronto se volete favorire ragazzi miei finiamo di sbarazzare qua finiamo il caffè buono dobbiamo però controllare le nostre lenticchie adesso io dirvi di spostare le lenticchie se riuscite a vedere a spostare e cambiare il fornello che mi serve la fiamma alta per le lenticchie altrimenti non riusciamo a concludere adesso un paio di minutini qui aspetta il brodo è quasi tutto assorbito buongiorno Marco benvenuto Marco abbiamo fatto il risotto alle cozze risotto risotto nero adesso te lo faccio la vicina ecco qui un pochino qua ecco qua Marco risotto nero rustico alle cozze spettacolo di casa sanna dopo la assaggiamo qui sto facendo le lenticchie per i bambini giusto una cipollina una o due cipolline rosolate in abbondante olio extravergine d'oliva come il suo dire qui nel risotto ho aggiunto le cozze solo al finale neanche hanno cotto neanche in un minuto spenta la fiamma aggiunto le cozze che ho preparato precedentemente tutto la merda ragazzi ok adesso aggiungiamo il sale alle nostre lenticchie sale io ho il sale minerale quindi le dosi vostre saranno diverse con sale marino ok 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 ecco 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 inter milan ecco 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 They are not cooked. We are nearly done. Right. In up the pots. Grazie a tutti Grazie a tutti Here we go Ok, look at that Look at that Beauty Look at that, wow Ok, assaggiamo però Il risotto può assaggiare Grazie a tutti Eccoci qua ragazzi, siamo sul corpo finale, le mie lenticchie stanno assorbendo tutto il succo liquido e dobbiamo assaggiare però il nostro risottino per verificare la cottura. Perfetto ragazzi, crunchy, un litro di crunchy. Maho vi saluta, spegniamo il fuoco, anche le lenticchie sono a posto. Ciao ragazzi, buona domenica e forza a Cagliari. Ciao!